Domenica di sorrisi per il Lucera Calcio che ha affermato la sua supremazia sul campo del centro sportivo Sampio X nei confronti del Real San Nicandro battuto 3-0. Dopo un inizio in sordina i bianco celesti hanno sbloccato il risultato nel primo tempo grazie a Pompetti. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti di San Nicandro di Bari hanno provato qualche conclusione che il portiere Curci ha neutralizzato. Ma è stato il Lucera a creare di più tanto da aver realizzato due reti siglate da Gianmarco Simone e Luigi Balletta, ma di occasioni ce ne sono state varie in realtà. Un 3-0 che ha strappato applausi e acceso l'entusiasmo del numeroso pubblico che ha affollato la tribuna del campo di Sampio X. In classifica il Lucera Calcio è secondo a 9 punti insieme a Soccer Modugno e Foggio Incedit. Quest'ultimo sconfitto dal football acquaviva per 2-1. In prima posizione in classifica di prima categoria girone A a 10 punti c'è l'atletico acquaviva. Sconfitto il Troia 1-2 in casa dal Real San Giovanni.